Mi chiamo Marco Ricasoli, sono produttore di Rocca di Montegrossi e sono il titolare dell'azienda Rocca di Montegrossi e come dico sempre un po' il direttore d'orchestra di tutta l'azienda. La scuola di lavoro è fondamentale, veramente fondamentale, credo che in qualsiasi lavoro se non abbiamo una squadra di persone valide che ci mettono il cuore, la passione, la professionalità, la dedizione e non si va da nessuna parte. Quindi io sono una persona estremamente fortunata perché ho una grande squadra. Quando sono in azienda e vado nei miei vigneti dovrei andarci anche più spesso perché è quasi un effetto terapeutico nel senso che stare in mezza natura per qualsiasi persona ha un aspetto veramente di rilassamento, di contatto con la parte più primordiale di noi. quindi cerco sempre per tempo di andare nei miei vigneti non solamente per vedere cosa succede che è molto importante ovviamente per un produttore di vino ma anche per una questione di pace con me stesso.